Grandi guys, benvenuti in questo nuovo video aggiornamento So che non ho più caricato video, l'ultimo video che vi ho caricato è quello della call di Saphir Se non l'avete visto ve lo lascio qui nell'info box E il penultimo video era quel vlog aggiornamento, era settembre, ottobre mi sembra, è passato davvero tanto tempo Vi ho parlato di questi momenti un po' bui che mi sono capitati nell'ultimo periodo Vi ho parlato di quelli in quel periodo che è successo, quindi si parla di settembre, agosto-settembre Non pensavo diciamo di nuovo in una ricaduta del genere Quindi per quello che non ho più caricato video c'è stata una ricaduta molto molto in basso nel mio business, il mio life Ma non in modo grave diciamo C'è stato un po' più che business, più mentale, di mindset Quindi ringraziando, ringraziando ormai sono quasi due anni che sono nel mondo online Quindi ringraziando un po' le tecniche, diciamo che riprendendo di nuovo la mia vita in mano Riprendendo di nuovo consapevolezza senza farsi un po' abbagliare Prendere da questi fallimenti, posso chiamarli fallimenti ma non sono stati fallimenti del business e di business falliti Il fallimento non è stato proprio come vi dicevo del business più mentale, una ricaduta più mentale Quindi è stato abbastanza difficile perché parliamoci bene, vi parlo proprio di business nell'ultimo periodo Ma anche nell'ultimo anno diciamo che vanno e vengono, non nel senso brutto Però se magari passa un business ce n'è un altro che diciamo che si può prendere al balzo E di quello diciamo che è abbastanza semplice Ma quando si ricade dalla parte mentale lì è stato più difficile, lì è molto più difficile risalire Diciamo che ci vanno le persone giuste anche, diciamo quello perché molte volte le persone fanno tanto Influiscono anche tanto nella nostra vita, influiscono tanto nei nostri pensieri, ragionamenti E quello che poi andiamo a fare, diciamo siamo le azioni, comunque facciamo l'azione Quindi di conseguenza sono qui a farvi questo video che non vi dico che sono ritornato Diciamo che mi sto riprendendo, ecco, diciamo che il fondo, no, è brutto da dire Però il fondo in basso l'ho toccato, adesso piano piano sto risalendo E due giorni che sto riorganizzando tutto Nel senso che se non hai un'organizzazione non vai da nessuna parte Ho parlato molto di notion, ho parlato di organizzazione, di mettere a posto, segnarsi, appuntarsi tutto, farsi un calendario E ultimamente negli ultimi mesi sono io il primo che non l'ha messo in pratica Quindi adesso sto riprendendo di nuovo a registrare il video Infatti sto molto meglio, sto molto meglio Vi dico, adesso piano piano ricostruirò tutto quello che ho perso nell'ultimo tempo Perché c'è stato veramente una grande ricaduta Come vi dicevo, magari un giorno ci registro un video Adesso non sto a dirvelo in questo, ma magari un giorno ci registro un bel video sopra E come affrontare, come l'ho affrontato, come ho gestito tutto questo Perché è stato veramente veramente duro Magari molte volte si vede dalla parte esterna che stai bene tutto Ma poi è il dentro che non stai bene Quindi ragazzi, lasciamo il passato alle spalle, come si dice Lasciamo indietro tutto Ricominciamo ancora la più grande Anche se ci andrà un po' di tempo Ricominciare benissimo Però sono mega fiducioso E quindi ci vediamo prossima settimana con un nuovo video Oggi è domenica Oggi è domenica, una gran bella giornata E è passata la via con le persone più care E non so se esce questo video ancora di domenica Probabilmente esce di domenica sera Perché oggi è già pomeriggio Oggi sono già le tre tipo E quindi, grandi guys Vi auguro di mettere un commento qua sotto Parlerò anche dei video del 2021 Soprattutto quelli che mi hanno fatto fare più visual Più like, più interazione E grandi novità stanno arrivando Perché c'è stato il momento basso Come vi dicevo Ma grandi, grandi novità Sono in arrivo Quindi stay tuned E questa volta si spacca Questa volta to the moon Grandi guys Ciao a tutti